Salve a tutti, mi chiamo Leonardo Benvenuti, il nome d'altro è Leonardo Romano, ho intrapreso la carriera di Gigi all'età di 14 anni e ora ne ho 22 e non va secondo te, va bene? Dice il mio cavolo che va bene, comunque dicevo, vi controlliamo un po' che ho scritto perché non vorrei che, allora, no aspetta, no, 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 ecco, allora, al gennaio 2013 mi è uscito, la mia prima traccia, mi è uscita, al gennaio 2013 mi è uscita la mia prima traccia su, disponibile su, invernite su, che cazzo è? Allora, aspetta, ci sono, si vede bene? Al gennaio 2013 mi è uscita la mia prima traccia, sull'etichetta San Ginellation Record, disponibile in tutti gli store. Musica a te. Vi ringrazio e vi anticipo per l'attenzione. Sì! No, davvero, davvero, grazie e vi anticipo per l'attenzione. Adesso vi volevo cimentare un attimo nel mixaggio. E ora quattro. ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.